Edifici, li osserviamo, li ascoltiamo. Ne godiamo, ce ne prendiamo cura. Li tocchiamo. Ci fanno guadagnare denaro. Ne dipendiamo. Ci lavoriamo. Ci abitiamo. Ci fanno sentire come a casa. Ci aspettiamo che siano efficienti e funzionali. Vorremmo che conservassero il loro valore. O meglio, che aumentassero il loro valore. I nostri edifici devono essere sostenibili, sicuri, energeticamente efficienti. Ma anche belli. Il valore di un edificio dipende dalle sue prestazioni. Prestazioni che possono migliorare con DAP. Una facciata intelligente riduce il consumo energetico e aumenta il comfort dell'edificio. Grazie a finiture di elevata qualità, si ottiene una protezione di lunga durata e si risparmia sui costi di manutenzione. L'opportuna combinazione di colori crea un'atmosfera accogliente. L'isolamento acustico del soffitto migliora il suono della vita. Colori e materiali straordinari creano un quartiere bello e sicuro. Con DAV si evitano le mezze misure e si fa una scelta definitiva, integrando tecnologie d'avanguardia. Ogni edificio può così offrire le prestazioni migliori. L'isolamento acustico del soffitto migliora il suono del soffitto migliora il suono della vita. Gli edifici danno di più con DAV.